Questi sono 3 quiz di StumbleGuys, vediamo quanti riesci a indovinarne Il primo quiz è qual è stata la prima mappa creata su StumbleGuys, avete 5 secondi La prima mappa creata è stata la Spin Go Round e se non lo sapevi iscriviti e lascia like allo shorts Il secondo quiz è in quale anno è uscito StumbleGuys StumbleGuys è uscito nel 2020 e se lo sapevi scrivilo sotto nei commenti Il terzo quiz è quante versioni di Blockdash ci sono su StumbleGuys Per adesso esistono solo 4 versioni di Blockdash e per altri quiz iscriviti al canale e lascia like allo shorts